Nell'attesa di scoprire quale sarà il destino di Barbara Durso in una prossima stagione televisiva, lei stessa è tornata a parlarne. Lo ha fatto durante una festa, durante il festival di Marateale, un evento che si tiene ogni anno a Maratea in Basilicata. Durante questo intervento la conduttrice, ex di Pomeriggio 5 ormai, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha risposto a chi per anni ha definito il suo programma trash. Lei infatti Barbara Durso risponde così, ho fatto tante trasmissioni in cui c'erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma c'è sempre un perché. Mi venivano chieste, non è che la mattina io mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un'altra storia. Poi una frecciata a Mirta Melino, con lei che a settembre prenderà il suo posto a Pomeriggio 5. Poi Barbara Durso lancia una frecciatina a Mirta Merlino, con lei che prenderà da settembre il suo posto a Pomeriggio 5, è comunque completamente rinnovato. Di lei dice così, io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla Comara Cozzolino, ha sottolineato Barbara Durso, mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono, anche io sono una Comara, torno, tornerò, ma non dico dove. Per il momento quindi Barbara Durso preferisce mantenere il riservo sul proprio lavoro, adesso non ci resta che aspettare altre dichiarazioni effettive della conduttrice, e vedere dove sarà, perché ha moltissimi, veramente Barbara Durso col cuore mancherà e mancherà veramente tanto.